Partendo dalla Nazionale, che è ripartita dal gol di Buonaventura, che cosa vedi in questi azzurri guidati da Spalletti? Speriamo che hanno vinto, speriamo che continuino così, Spalletti è un grandissimo allenatore. Purtroppo ieri eravamo in questo evento quindi non siamo riusciti a vedere la partita, però ho letto i commenti, i giornali e visto le interviste, quindi è stata un'Italia che ha fatto bene. Contro Masa, adesso ci sarà una partita difficile. In generale che pensi di questo momento del calcio italiano e tutto quello che sta emergendo a proposito del caos scomesse? C'è sempre un po' di caos, però speriamo che si faccia sempre chiarezza e che le cose vengono definite, in modo dettagliato, senza che ognuno può pensare in un modo o in un altro. Speriamo che il calcio italiano possa far parlare di sé per le cose che succedono in campo, come la storia ha insegnato, i titoli che l'Italia ha vinto e le squadre di club. Quindi speriamo che l'Italia faccia più parlare per quello che succede in campo e le vittorie. L'ultima considerazione sul Milan da ex rosso-nero, in questo momento in testa alla classifica, secondo te dà buone sensazioni anche per lo scudetto? Hanno cambiato un po', hanno comprato, tanti giocatori nuovi, l'allenatore è rimasto, sono partiti bene. Penso che se la possano giocare fino alla fine, un campionato aperto, sulla carta forse un per cento in più c'è l'Inter per la vittoria del campionato, ma doveva essere così anche due anni fa e poi vinse il Milan, quindi speriamo sia una bella battaglia tra Milan, Inter e anche altre squadre fino alla fine per far sì che il campionato sia più entusiasmante per i tifosi.